Buongiorno a tutti. Allora, oggi voglio parlarvi del respiro, tratto da un articolo del mio blog su alessandroarbanesetrainer.wordpress.com. Perché parlarvi del respiro? Perché è importantissimo, è fondamentale per la nostra vita. Possiamo non mangiare per alcuni giorni, non bere per alcuni giorni, ma non possiamo non respirare. Purtroppo la vita frenetica di tutti i giorni non ci permette di entrare in contatto con il nostro respiro, che vuol dire anche entrare in contatto con noi stessi, con il nostro corpo e le nostre emozioni. Il respiro può aiutarci nei momenti di ansia, nei momenti di forte stress, può aiutarci al rilassamento e a recuperare energia. Io quindi oggi vorrei fare un piccolo esercizio con voi per cercare di vedere come prenderci due minuti durante la nostra giornata per ricaricarci energeticamente e per rilassarci. Bene, la prima cosa che faremo è che andremo a metterci i comodi. Io sarò su un divano, ma si può fare anche su di una sedia o su di una poltrona. Bene, mi metterò completamente rilassato, cercherò di sentire se ci sono delle tensioni e cercherò di allentarle. Quindi appoggerò la mia testa al cuscino e di rilassarmi completamente. Dopodiché chiuderò gli occhi e comincerò ad ascoltare il mio respiro. Quindi, inspirerò dal naso ed espirerò dalla bocca. Inspiro dal naso e faccio arrivare l'aria nell'addome, quindi gonfio la pancia, espiro la bocca e sgonfio la mia pancia. Per aiutarmi in questo processo posso mettere una mano sul torace e una mano sulla pancia in modo da sentire dove arriva l'aria cercandola di spostare il più possibile nella parte addominale. Quindi, chiudo sempre gli occhi, inspiro dal naso, gonfio la pancia, espiro dalla bocca e sgonfio la pancia. Inspiro dal naso, gonfio la pancia, espiro dalla bocca e sgonfio la pancia. Cercando di rimanere sempre concentrato sul respiro. Può succedere che sorgono dei pensieri o delle emozioni, le registrerò, ma rimanerò sempre concentrato sul respiro. Quindi, inspiro dal naso, gonfio la pancia, espiro dalla bocca e sgonfio la pancia. E proseguo per qualche minuto. Nel momento in cui raggiungerò il mio stato di rilassamento, incomincerò a muovere le mani, ad allungare le braccia, ad aprire gli occhi, ad entrare in contatto con l'ambiente circostante, faccio due respiri profondi e terminerò il mio esercizio. benissimo. Potete farlo quando volete, in qualsiasi momento della giornata. Sicuramente potrà aiutarvi a rilassarvi, potrà aiutarvi ad affrontare meglio quel momento preciso della giornata o tutta la giornata stessa. Quindi io vi invito magari a fare questo esercizio e magari a scrivere sul mio blog, alessandroalbanese3m.wordpress.com e nella sezione dedicata all'articolo sul respiro, potete mettere le vostre impressione. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento per un prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao. Grazie. Grazie.